Buongiorno raga, questa notte ho costruito una Ruth Goldberg machine, ma che cos'è una Ruth Goldberg machine? Non è nient'altro che un macchinario estremamente complicato che va a realizzare delle azioni semplici tipo mettere il dentifricio sullo spazzolino o pulirsi la bocca L'ideatore è un famoso fumettista americano il quale inseriva questi macchinari estremamente complicati all'interno dei suoi fumetti E così ho fatto io in camera da letto Infatti non mi resterà nient'altro che chiamare Katia Per far scattare tutto l'ingranaggio che le porterà la colazione a letto Tadà! Buongiorno Bubi! Cosa c'è Katy? Ma cosa hai fatto? T'ho preparato la colazione a letto Dai hai fatto un casino, che colazione? Ma ti ho scritto anche I love you, guarda I love you Perché è il mio buongiornissimo Buongiorno Bubi! No, 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 dai Dai, ciao! No, vai! Grazie a tutti. Buongiorno Bubi! Cioè mi sono entrato tutta la c***a nei vestiti eh! Guarda, ha funzionato! Buongiorno! Buongiorno Bubi! Dai Luca, tutto è sporcato! I libri, il muro! Che cosa? No, il muro no! Che cosa ho fatto? Mi pare che si è entrato tutto nell'armadio sta roba! Cos'è che ho fatto? Catti! Dai, perché devi fare così? Mi sono anche spaventata! Stavo dormendo! Ma è il mio buongiorno! Aspetta, aspetta, guarda che è funzionato! No, vai! Luca hai fatto un casino! Punto! Guarda questo qua non è schizzato! Adesso devi pulire tutto! Eh vabbè, eh vabbè, guarda qua! Buongiorno! È la mia invenzione! L'ho fatto... No Katia no! Luca tutto devi pulire! Hai capito? Ci ho impiegato così tutta notte per farlo! Hai fatto un casino hai fatto! Ma non è vero! È un'invenzione fantastica! È una schifezza! Raga, se vi è piaciuta la mia invenzione non dovete far altro che lasciare un bel like, condividere il video e se non siete ancora iscritti al nostro canale fatelo ora! Perché devi risvegli? Luca adesso devi pulire tutto! Che ore sono? È prostissimo! Che casino! Tadà! Buongiorno Bubi! Ciao! Cosa c'è Katie? Ma cosa hai fatto? Dai! È una genialata! Ma no, sei un cretino! Che genial! No, vai via! Luca vai via e pulisci! Vai via e pulisci! Come faccio a pulire? Ah! Non vi ho fatto venire un particolare! Mentre facevo le prove! No, ti odio! Non vi avevo fatto vedere questo particolare! Guardate Superman! No, ti odio! Non siamo uguali! Tadà! Buongiorno Bubi! Grazie! Grazie a tutti. Luca, dai schizzato dappertutto. Katia, non ti piacciono mai le sorprese che ti faccio? Ma dimmi che il ragazzo che organizza una colazione così è la propria ragazza. Ma la spero proprio nessuno. Infatti ci sono io, dovresti amarmi invece di continuare ad urlare. Va bene, ciao raga. Mi sa che mi toccherà pulire tutto quanto. Che casino. Katia, ma tu non hai visto come mi sono ingegnato? Basta. Ma davvero? Luca, non mi ne interessa niente, fammi dormire. Spero solo che abbia registrato anche lo slow motion. E pulisci anche in silenzio, cazzo. Sì, lo slow motion mai è stato registrato. Quanto sono eccitato. Ti vai. Pulisci in silenzio. Infatti non mi resterà nient'altro che chiamare Katia per far scattare tutto l'ingranaggio che le porterà la colazione a letto. Tadà! Buongiorno Bubi! Buongiorno Bubi! Buongiorno Bubi! Buongiorno Bubi! Buongiorno Bubi!